Allora, per Settimana Sport, Mr. Schutt, è arrivata questa sconfitta contro comunque un'ottima Cairese. Comunque la Voltresa abbiamo visto che ce l'ha messa tutta. Sicuramente, no, no, non posso rimproverare niente alla mia squadra. Oggi è stata una partita giocata sicuramente al massimo delle nostre potenzialità. Abbiamo fatto anche, secondo me, una discreta partita davanti a una Cairese che oggi sicuramente ha dimostrato di essere una squadra di alto livello. Quindi non sempre quando si perde si fa tutto male. Oggi loro sono stati più bravi di noi, quindi bisogna accettarlo e andare avanti. Ecco, Mr., questa squadra come la vede per il proseguo del campionato? È una squadra che deve lottare. Noi siamo neopromossi, quindi dobbiamo sicuramente fare un campionato dove ogni partita sarà una battaglia. Dobbiamo migliorare tanto in tante cose, inserire qualche giocatore che a parte iniziale del campionato avevamo infortunato e continuare così. Sicuramente dal punto di vista dell'impegno ai ragazzi non si può dire niente. Bene, grazie, Mr. e comunque buona fortuna per il proseguo del campionato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti a settimana Sport. Grazie.